Secondo me assolutamente sì, ci crediamo anche come gruppo, in particolare anche per l'evoluzione che sta facendo l'Odiest, comunque ormai il pubblico è molto smart, è molto smaliziato comunque nel rapporto con gli influencer, quindi il fatto di avere un approccio molto autentico senza filtri fa sì che ne abbiamo dei benefici nell'efficacia della comunicazione, perché ormai comunque l'audience sa che un influencer soprattutto quando lavora per un brand è pagato per farlo, quindi l'importanza di avere proprio quel feeling, quella trasparenza permette che l'attività sia veramente efficace. Allora, secondo me non è tanto legata alla loro professione quanto il ciclo di vita dipende dalla loro capacità di evolversi e soprattutto di interpretare di volta in volta quello che è il desiderata del loro pubblico, cioè il pubblico evolve e i contenuti evolvono, se sono un bravo influencer riesco a interpretare e cavalcare questi trend e il desiderata della mia audience e di conseguenza a rimanere diciamo in auge più a lungo. Allora, è molto importante selezionare bene il momento in cui affidarsi a dei virtual influencer, i virtual influencer possono avere comunque un vantaggio molto strategico soprattutto nel rendere più umano qualcosa che spesso è più freddo, quindi come può essere magari un risponditore o comunque cercare di creare un rapporto dove prima un rapporto non c'era. Ovviamente non li consiglieremmo mai nell'ottica di dover fare delle recensioni o comunque consigliare un prodotto perché lì essendo una persona non reale è normale che il pubblico rimanga stranito, però come intrattenitori possono veramente darci dei vantaggi pazzeschi perché veramente possono riuscire a interpretare tantissimi contenuti e tantissimi trend che magari una persona reale diversamente non potrebbe fare.